Con la rinuncia a correre da candidata sindaco di Gisella Botticchio, Elvira Serra resta l'unica donna candidata allo scranno più alto di Palazzo di Città. Ed è proprio lei che ha scelto di dare forza alla sua collezione di liste candidando la consigliera di opposizione in fuoriuscita dalla Lega. Ma la componente femminile è senz'altro un aspetto su cui ha deciso di puntare Elvira Serra, storicamente paladina delle quote rosa. Roberto Mutalipassi invece punta sulle due assessori uscenti, entrambe in quota PD, Vanna D'Arienzo e Rosa Lampasona, mentre nel PSI si fa a largo la candidatura di Antonia Volpe, nella scorsa consigliatura restata fuori dal Consiglio Comunale per una manciata di voti. Come confermano gli annunci social di questi giorni, con Mutalipassi sono tante le donne che popolano anche le diverse civiche promosse dai diversi consiglieri uscenti. Maristella Buonora, già consigliere comunale, è il nome femminile più accreditato nelle liste a sostegno di Massimo Laporta, anche se una sorpresa potrebbe venire fuori da Ermelinda Buonora, la cui candidatura è sponsorizzata dall'ex consigliere Cinque Stelle Consolato Caccamo. A fare da apripista del movimento Liberi e Forti a sostegno di Raffaele Pesce, tante donne di diversa estrazione. Tra le più attive si segnalano Roberta Morrone, Daniela Cuono, Tatiana Parrella e Alessandra Giuliano. Il rischio di ogni campagna elettorale è il cattivo uso che si può fare delle quote rosa, ma l'auspicio è che la presenza di tante donne forti e autorevoli possa essere un arricchimento per il futuro Consiglio Comunale.